Intro Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova puntata della serie di sopravvivenza Nella scorsa puntata abbiamo costruito un nuovo satellite sopra le nostre teste Un satellite che è andato a far compagnia al nostro carissimo Enceladol E il nuovo satellite, vale a dire questo, sorge proprio qua sopra, esattamente sopra alla zona del cimitero Come vi ho detto appunto nella scorsa puntata, oltre ai due satelliti, quindi uno e il secondo ovviamente Enceladol, lo vediamo lì Voglio anche creare un pianeta centrale, un pianeta che sarà esattamente allineato con la torre e con il fascio del beacon Quindi sarà una cosa molto figa Nella puntata di oggi, ragazzi, inizieremo a costruire questo pianeta Che sarà ispirato a Giove E sarà però semplificato, perché comunque siamo in Minecraft Quindi Giove ha tanti colori, ha tante variegature, striature Ma noi non possiamo fare miracoli Utilizzeremo questi materiali, soprattutto, quindi questi tre materiali E andremo a fare una fascia bassa che sarà in argilla grigio chiara Poi ci sarà una fascia in argilla bianca Una grossa fascia centrale arancione Poi ancora bianco e poi ancora grigio chiaro Questa argilla l'ho picconata tra una puntata e l'altra Andando nella misa che è lontanissima Penso che la maggior parte di voi neanche l'hanno vista nella serie Ci siamo andati un sacco di tempo fa Ma che ovviamente risulta molto comoda Perché c'è argilla colorata così, in natura Quindi non c'è neanche il bisogno di prendere argilla normale e colorarla E anche se ho l'inventario pieno, comunque, ragazze Non aspettatevi che questa argilla sia sufficiente Probabilmente non lo sarà E purtroppo ne sono consapevole Quindi probabilmente dovrò anche fare un altro viaggio Per andare a prendere altra argilla E sarà da spaccarsi i coglioni in due Quindi per il momento inizierò costruendo metà del satellite Quindi metà sfera, diciamo così Seguendo proprio il tutorial che vi ho citato anche nella scorsa puntata Tutorial dal quale mi ispirerò anche questa volta Per ricalcare la forma della sfera Su cui poi noi ci metteremo vari colori ovviamente Perché nel tutorial la sfera è a tinta unita E poi infine metterò tutti i dettagli E spero venga una figata Comunque per il momento siamo sopra la torre Devo trovare un modo per uscire da qui Perché dobbiamo andare su Dobbiamo andare su Sulla sommità della torre per costruire Allora come diamine possiamo fare Se io spaccassi un attimo qui In questo modo Mettiamo qui della terra Devo però rimettere a posto i cazzo di legni Quindi qua ce ne abbiamo uno Qui c'è l'altro Ok ce l'ho fatta in qualche modo Quindi qua usciamo Iniziamo a salire Saliamo sopra la torre Qua poi tutta la terra andrà Levata E andiamo a costruire questa mega Sfera ragazzi Che sarà esattamente allineata con la punta della torre Quindi ci dobbiamo mettere qui E iniziare a salire Con il beacon che Ci Ah no Si è spento Si è bloccato Perché si logicamente non attraversa i blocchi solidi Questo è vero Raggiungiamo questa volta altezza 184 Se i miei calcoli Non mi ingannano Dovrebbe essere l'altezza ideale La sfera che andremo a fare Sarà di un diametro di 29 blocchi Quindi quel satellite Aveva un diametro di 15 blocchi Andremo a fare una sfera che sarà quasi Il doppio in diametro Il doppio in diametro significa Che la sfera sarà gigantesca E sarà una gran fatica Quindi spero vivamente che apprezzerete E siamo arrivati a 184 Pertanto iniziamo a mettere Un primo blocco Che sarà Di lana Grigia Di lana grigia Di argilla grigia scusate Andiamo a riprenderci la terra E dobbiamo salire Di altri 13 blocchi Perché essendo 29 il diametro Il centro è al quindicesimo blocco Quindi ne abbiamo già messo uno E dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Quindi 15 con il blocco di argilla E ancora una volta Partendo da qui Devo prendere Altra dirt E fare Delle braccia Quindi una specie di croce Fuoriuscendo di altri 14 blocchi Sì esattamente Guardate quanto è bellina La base vista dall'alto Non la vediamo mai così Guardate i sentieri Visti così Sono veramente Molto belli Mi piace un casino E comunque Ragazzi Forse vi starete chiedendo Ma tu vuoi fare Una riproduzione di Giove Ed è solo il doppio più grande Dai satelliti E avreste ragione a pensarlo Solo che ovviamente Noi andiamo ad ispirarci a Giove Ma come proporzioni Non ci avviciniamo neanche Perché se volessimo fare Una cosa in scala Ci vorrebbe una sfera Di qualche migliaio Di blocchi probabilmente Alla fine di queste Braccia di terra Mettiamo però Un blocco di Argilla arancione Quindi me l'ho dimenticato prima Quindi iniziamo da qui Estendiamoci di 1, 2, 3 Blocchi Sia da questa parte Sia da questa Quindi 1, 2, 3 Dopodiché Ci mettiamo Alla fine Mettiamo Un blocco di terra Come appoggio E facciamo Altri 3 Blocchi Poi blocco di terra D'appoggio E ne facciamo 2 Blocco di terra E ne facciamo Uno solo Questa volta Ne mettiamo 3 così Se non sbaglio Quindi ora Andiamo Di qua Andiamo Andiamo Sull'altro Braccio Della croce Ragazzi Qua ci morirò Infinite volte Ma già lo so Perché Sto rischiando Veramente tantissimo Mettiamo ancora La terra Facciamo quindi Anche da questa parte 1, 2, 3 Poi ne mettiamo 2 E a questo punto Ci dovremmo Ricongiungere Esattamente Eccoci qui Ok Quindi La circonferenza È completata E questa sarà Appunto La circonferenza Centrale Siamo proprio Al blocco 15 su 29 A questo punto Ho il dito In cancrena Talmente tanto Premuto shift Ma a questo punto Dovremmo scendere Quindi qui Siamo Alla base Del pianeta Mettiamoci una bella torcia Eccoci qua sotto Dobbiamo riprodurre La croce Che stavamo facendo Là Anche da questa parte Questa volta con L'argilla grigia Quindi In ogni lato Usciamo di 3 blocchi Facciamo 1, 2 E 3 Anche di qui Guardate come sto Shiftando ragazzi Non avete idea Cosa Non è per il mignolo Tenere così tanto Premuto shift Ecco qua Certo Potrei cambiare comando E mettere il cap Sarebbe comodo Comunque Abbiamo fatto questa croce Ora L'obiettivo È quello di salire E di fare Questa circonferenza Anche Per gli altri versi Quindi per esempio Fare la stessa circonferenza Anche in verticale Quindi è una cosa enorme E poi anche Da questa parte Quindi dovremmo unire Tutto Fino là Poi arrivare fino su Fare la punta Poi scendere là Farà così Tracchio fino a qui Voglio solo fare Metà sfera Per cominciare Quindi Devo iniziare Così Allora Questo lo spacchiamo Usciamo di tre Uno due tre Altra terra Saliamo su Uno due Questo lo tolgo Altra terra E altra argilla E questa va tolta È una cosa Difficilissima Da fare ragazzi Non avete idea Qua ancora Un blocco singolo Ancora terra Ancora un blocco singolo Ci vuole anche Un sacco di terra Perché tutta questa Cade Va persa Ovviamente Poi Usciamo di uno Ci alziamo Togliamo la terra E ci alziamo Di un altro blocco Quindi facciamo Due Ancora terra Così La togliamo E facciamo Due E tre Ci siamo avvicinati Non proprio Non proprio Quindi potrei aver sbagliato Qualcosa Vabbè Ovviamente Anche da lì Devono scendere tre blocchi Solo che adesso Mi sono già dimenticato Il fatto dei colori Pertanto In realtà Solo i primi tre Anelli inferiori Saranno grigi Quindi uno Due E tre Qui comincia il bianco E di bianco Ce ne saranno Cinque di anelli Quindi devo prendere L'argilla bianca Mettiamo della terra Qui Perché se no Veramente diventa un casino Spacchiamo questi blocchi E mettiamo L'argilla bianca Anche questi due Saranno bianchi E poi Qui ci sarà La fascia Arancione La fascia Arancione Sarà Larga 13 Quindi Lì è il centro Quindi è il Blocco Numero 7 E scende di altri Sei blocchi Quindi dobbiamo fare Che qui Spacchiamo tutto Mettiamo la terra Devo prendere L'argilla Arancio È un macello Allucinante Ragazzi Mettiamo tre blocchi Arancioni E poi da qui scendiamo Uno Due E il terzo Vediamo di Riuscire a metterlo Va qui Perfetto Wow Una volta fatto Questo enorme Macello Abbiamo solamente Fatto lo scheletro Diciamo di questa Mezza sfera Che poi andrà anche Rifatta nella parte Superiore Per cui Ciao Non finiremo mai Allora ci mettiamo Qui nella croce Di base E la allarghiamo Di uno In ogni braccio Inizialmente Quindi facciamo così Anche di qui Tutte le braccia Quindi diventeranno Larghe Tre E profonde Tre Essenzialmente Anche questa Tac Fatto E poi Riempiamo Questi angoli Con dei blocchi Molto tattici Messi qui Eh sì Sempre che Se riesco a metterli Perché sono abbastanza impedito Al momento Quindi facciamo così E così E abbiamo fatto una base Anche in questo modo Posso un attimo Muovermi Senza Shiftare sempre Ora devo rifare La stessa cosa Anche per le parti Arancioni Quindi dobbiamo salire Ovviamente a metà Perché Sto facendo Solo metà sfera Ve lo ripeto Quindi saliamo qui E facciamo Così Così E anche da questa parte Così E il blocco tattico Solo metà però Arrivati a questo punto Iniziamo ad allargare La seconda zona Quindi Questa parte qui Il secondo livello Chiamiamolo così Iniziando ad allargare Questi tre blocchi Facendo un quadrato 3x3 In ogni lato E dopodiché Ci mettiamo sopra E dal blocco centrale Usciamo di Uno E due blocchi Da ogni parte Quindi anche Da questa parte E per ogni Quadrato Unendo poi Questi blocchi Semplicemente Così Quindi mettendo Un angolino Lo facciamo Da ogni parte E poi Andiamo anche A riempire Tutto il resto In questo modo Completando la faccia Per poi andare A riprodurre La stessa cosa Anche per i Quattro punti Qua sopra E ora Le cose Si fanno Ancora più Complicate Perché appunto Non lo erano Già abbastanza Quindi ci mettiamo Qui E dobbiamo Praticamente Allargare Questo Spazio Facendolo Largo 5 Questo Per ogni Diciamo Ognuno Dei quattro lati Quindi anche di qui Lo allarghiamo Facendolo Largo 5 E poi Salendo qua sopra E mettendoci Nel blocco Più interno Usciamo Di Uno E due Blocchi Torniamo lì Uno E due Blocchi Dopodiché Facciamo Un zig zag Così Per fare Diciamo Due punte Quindi Uno E due Questo No Questo ci stava Qui Ovviamente Riempiamo tutto In questo modo Riproduciamolo In tutti e quattro i lati E poi anche Per le parti Arancioni E anche questa è fatta Ragazzi Sono anche dovuto Scendere nuovamente Perché avevo finito L'argilla Grigia Fortunatamente Ne avevo uno stack Di riserva Nei bauli Quindi Non sono dovuto Andare a rifarmela O a craftarmela Ora invece Ci riprendiamo L'argilla bianca E facciamo Il prossimo anello Che inizierà Da questo punto Quindi partendo da qui Non facciamo cinque Questa volta Ma sette Blocchi Tutti di fila Quindi Così Questo ovviamente Non c'entra niente E Semplicemente Questa volta Dobbiamo fare Il contorno Di quello che abbiamo Già fatto Quindi molto semplicemente Si fa così Non dobbiamo riempire niente Non dobbiamo usare Blocchi d'appoggio Dobbiamo solamente Fare questo contorno E inizio a prendere Una sua forma Come state vedendo Ora Ci dobbiamo mettere A quest'ultimo Tra virgolette Anello Perché sarà quello Che congiungerà I vari lati Lo allarghiamo Di sette blocchi E questa volta Facciamo il contorno Ma senza gli angoli Quindi vuol dire Che userò la terra Che poi andrò A spaccarla In questo modo Perché Allora Qui ci mettiamo l'argilla Qui Non questa Recuperiamola Perché già ne ho poca Mettiamo la terra Togliamo poi l'angolo Ok Perché appunto L'anello Si sta assottigliando Ogni anello È sempre più piccolo Vedete Qua Era la base Ed era La cosa più larga Qui Era profondo 3 Qui 2 Qui 1 E qui ancora 1 Però appunto Non ci sono gli angoli Quindi rimane più sottile Darà poi l'idea Della sfera Quindi Dobbiamo fare questa cosa Ovviamente Tutto attorno E ovviamente poi Anche In questi altri sensi Quindi in verticale Arrivati a questo punto Non ci rimane Ma in realtà Abbiamo fatto solo metà sfera Quindi non è che Ci rimane questo E poi via Dovrò fare l'altra metà Poi Il che non sarà semplice Comunque dobbiamo Riempire questi 4 Buchi rimasti Quindi semplicemente Mettiamo Così a zigzag Questi blocchi Anche qui Anche qui Vabbè la terra La toglierò poi io Chi se ne frega Utilizzo ovviamente La terra come appoggio Come sempre E semplicemente In questo modo Andiamo a riempire Tutti i buchi Quindi qui ci va ancora L'argilla L'argilla bianca E poi A questa altezza Invece Metterò un singolo blocco Di argilla Arancio E il buco È chiuso Perfettamente Ed è fatta Ragazzi Questa Mezza sfera È chiusa Ora immaginatevi L'intero globo Come sarà Enorme Sarebbe bello Farci qualcosa Dentro Perfino Perché è veramente Uno spazio gigantesco E ne ho fatto solo metà Ovviamente penso che L'altra metà La farò per conto mio Perché a questo punto Ci vorrebbe un intero video Per fare Un'altra metà Quindi probabilmente La faccio off screen Così nel prossimo video Mettiamo i dettagli E facciamo una cosa Un po' più easy È un po' più godibile Diciamo così Comunque ragazzi Questo È metà Del pianeta Che sorgerà Sopra la torre Spero che il video Vi sia piaciuto E spero che il progetto Vi intrighi Quanto intriga me Perché non vedo l'ora Di vederlo finito Quindi lasciate un like Se anche voi La pensate così Commentate Condividete il video Passate in descrizione Se vi interessa il tutorial E io direi Che non c'è altro Da aggiungere Un saluto da Iron Blaze Ciao a tutti